Ci risiamo, puntata 483 di Gente che parla di gennaio. Mag, che si terrà a partire da domani, cioè una tona dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart, a partire da domani al Cineteatro Baretti, per arrivare fino a domenica, dopo 36 ore in interrotte di musica e proiezioni dedicate appunto al compositore, con conclusione poi al conservatorio. Dunque, non è la prima volta, in realtà siamo già alla quarta edizione, insomma, è rodata e funziona bene. Sì, devo dire che la prima edizione fu, non dico una scommessa, perché l'idea era di Davide Livermore, il direttore artistico del Teatro Baretti, che mi coinvolse per organizzare questa maratona e non sapevamo cosa sarebbe accaduto. Pensavamo che il teatro magari non sarebbe stato sempre ugualmente riempito e che quindi il pubblico sarebbe venuto da noi. Anche perché il pubblico era un po' disaffezionato, dica classica. In realtà no, questo è una voce che dobbiamo smentire perché da molti anni, ad esempio, i teatri lirici italiani hanno preso una stagione di calcio e nessuno lo dice. Rino d'Altre, che gode in qualche modo di cattiva stampa presso chi non la conosce perché si immagina che sia una cosa cara, elitare. Invece no, quando si vedono i pullman che sono davanti al regime e che vengono magari anche dalla Francia per vedere l'opera, magari cambia idea. E lo stesso è successo con noi alla Mozartiana, siamo riusciti, devo dire, per l'agente del pubblico, forse anche molto per la buona volontà dei voluti di faretti, a far venire in tronco delle persone che magari non sarebbero mai andate. Fino sulle 3.000 presenze nell'arco delle 36 ore. Ecco, grandi numeri, 50 momenti musicali con solisti, ensemble e gruppi in quei giorni. No, perché il 27 di gennaio è il compleanno di morte e per una coincidenza, non so fino a che punto casuale, il 27 gennaio è anche il giorno di cui succedono in quel giorno. L'anno di cui succedono gli artisti della storia e l'ingresso degli alleati è un giorno estremamente importante che viene ricordato in situazioni diverse da enti. Allora noi per non sovrapporci al giorno della memoria, che peraltro ricorderemo quest'anno anche con un'altra manifestazione, abbiamo deciso di fare la Mozartiana nel weekend più vicino al 27, ma non il 27. Quindi Mozart Nartuntag è una festa mobile in qualche modo, però ormai il pubblico lo sa perché grosso modo è l'ultimo weekend di gennaio e anche quest'anno ci aspettiamo una buona festa. Ecco, peraltro anche gratuita. Assolutamente. Non si paga nulla e non solo il pubblico non paga nulla e può entrare e uscire quello vuole compatibilmente alla disponibilità di posti in teatro, ma tutti gli artisti intervenuti intervengono gratuitamente. Allora, il nostro regista Paolo Biano ha preparato per noi alcune immagini tratte da un noto film dedicato proprio a Volta e Amadeus Mozart, Amadeus che uscì in occasione del bicentenario della morte dell'artista. Un film che forse in qualche modo aiutò al pubblico ad affrontarsi in maniera diversa come Mozart, un film che fece discutere per la stessa immagine che veniva data del personaggio. Del resto era così, cioè era abbastanza così al di là dell'invenzione drammaturica. Geniosi regolatezza. Assolutamente geniosi regolatezza. Il bello di un personaggio come Mozart, che forse è uno degli elementi che più possono interessare il pubblico non strettamente fatto, è proprio il fatto che è una persona in carne ed ossa, con pregi e difetti, non è quel piccolo... L'artista non è un dio al di sopra di tutto. No, non è certamente quella statuetta di porcellana vestita da Cicisbeo che in qualche modo era... Era un modo di vedere Mozart a metà 800, quindi anche la figura di Mozart è stata vista dalla critica, dal pubblico col passare degli anni in modo sempre diverso. Nei primi anni era guardato come una specie di diavolo che lasciava odore di zolfo dove passava. A metà 800 e ancora fino ai primi del 900 era descritto come una specie di divino fanciullo che magari i direttori d'orchestra eseguivano con i guanti bianchi. Poi nel 900 si è fatto giustizia dell'uomo che ha veramente messo in musica e ha vissuto sulla propria pelle un periodo di grandissime trasformazioni sociali che ha cominciato come artista dipendente a tutti gli effetti di una corte, che veniva trattato dai suoi datori di lavoro esattamente come uno stalliere o un cuoco e ha finito la sua carriera da libero professionista con tutti i rischi e tutti i vantaggi di una simile situazione. Quindi è stata la sua vita e la descrizione di come è cambiata la musica nell'arco di 50 anni, dalla metà del 700 a Napoleone. Ecco, vediamo qualche momento insieme, qualche momento saliente della maratona, cioè c'è l'apertura sabato mattina che, insomma, possiamo dire che è straordinaria per la presenza di una flautista nota, almeno a chi se ne intende di musica classica. Sì, cominciamo subito con un duo di grande qualità perché Fiorella Andriani è una bravissima flautista che qui appunto è in duo con Ugo Piovano e la prima esecuzione è una trascrizione per un duo di flauti di alcuni brani del flauto magico. È già abbastanza indicativo questo perché bisogna ricordare che fino a 60-70 anni fa la diffusione della musica non avveniva tramite radio o dischi o televisione, per cui chi non sapeva suonare e non poteva andare a teatro la sentiva nelle occasioni più strane adattata. Quindi come in Italia si sentiva l'opera lirica anche suonata dall'organo della chiesa, perché non c'era altro sistema, tante tante composizioni di Mozart e di altri compositori sono circolate, adattate per altri gruppi, in questo caso due flauti. Ecco, poi noi vogliamo un po' sul programma perché siamo proprio vicini al momento della chiusura, c'è una curiosità, cioè verrà anche eseguito un brano che fu scritto dall'unico figlio musicista di Mozart, Frank Xaver Mozart. Sì, sono sei liriche da camera di Franz Xaver Mozart che nacque praticamente quando Mozart morì, quindi in pratica non lo conobbe, però per tutta la vita si portò in qualche modo dietro l'impressione e il dovere di essere all'altezza di un padre di simile stazza, quindi potete immaginare cosa vuol dire psicologicamente essere figli di Mozart. Una pesante eredità. Pesantissima e senza nemmeno avere in qualche modo la soddisfazione di esserne stato allievo perché non lo ha ovviamente conosciuto ed è una vita interessante quella di Franz Xaver Mozart e si sta cominciando adesso ad eseguire qualcosa di suo ed è una prima occasione penso per Torino ascoltare queste liriche. Ecco, sabato alle 23.10, questo poi seguirà, ci sarà Fiorenzo Alfieri a seguire, che presenterà tra i proiezioni, cioè le opere di Mozart scritte con un libretto di da ponte, le nozze di Figaro, così fan tutti, e il Don Giovanni. Sì, durante la notte, nelle varie edizioni in certi casi siamo andati avanti con le esecuzioni dal vivo anche fino alle 2 di notte. Questa volta Fiorenzo Alfieri, che ci ha proposto questa collaborazione, noi siamo ben lieti di accoglierlo nel gruppo del Teatro Baretti, ci ha proposto di presentare le tre opere di da ponte e Mozart e quindi durante la notte ci saranno le proiezioni, ovviamente sempre ingresso libero, ogni volta con la presentazione di Fiorenzo Alfieri, che tornerà alle 3 per raccontare Don Giovanni e tornerà alle 6 del mattino a raccontare così fan tutte. Quindi quella notte non dormirà. Senta, siamo proprio in chiusura. Ancora una domanda, c'è posto per il famoso Requiem di Mozart, di cui peraltro tanto si parlò anche perché si disse che non lo concluse lui, ma ci fu la mano di Salieri. Beh, certamente non lo concluse lui perché morì prima di terminarlo. Il problema dell'esecuzione del Requiem di Mozart è che è un brano che prevede un organico vocale e strumentale molto consistente, quindi bisogna vedere le orchestre dei conservatori se hanno il coraggio e il modo di metterlo in piedi. Però ci saranno, il concerto del conservatorio è sicuramente valido e in più alla domenica alle 11 e mezzo abbiamo una messa di Mozart eseguita durante la mese. Allora, noi dobbiamo chiudere, ricordiamo soltanto che chi volesse più informazioni, volesse leggersi il programma, che l'abbiamo detto, è di 36 ore di musica e cinema. Senza interruzione. Senza interruzione. Può farlo attraverso il sito www.cineteatrobaretti.it oppure c'è anche su Torino 7 di questa settimana, quindi di facile consultazione anche attraverso la lettura della stampa. Noi ringraziamo a questo punto allora Corrado Rulain per essere stato con noi, grazie ancora. Gente che parla si chiude qui e l'appuntamento è per lunedì, ma mi raccomando rimanete sintonizzati per seguire la programmazione di Quarta Rete per tutta la giornata anche attraverso il nostro sito www.quartarete.tv Buon weekend a tutti! Ciao! Ciao!